Gigantografie colorate e suggestive, ispirate ai panorami mozzafiato della campania, arredi dal design accattivante e strumentazione all'avanguardia, e come partorire in casa, così il primario dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Moscati, Elisario Sulziero, ha voluto sintetizzare l'effetto dei comfort di cui sono dotate le 5 nuove sale dedicate al travaglio, al parto e alla fase successiva, inaugurate stamane dal governatore della campagna Vincenzo De Luca. I sole neonatali che hanno visto la luce presso un'ala realizzata completamente ex novo in tre mesi dalla ditta Di Zenzio di Serino, come ha sottolineato l'amministratore Alberto Di Zenzio che ha curato con attenzione e professionalità gli interni del reparto. E' entusiasta lo staff del primario Struziero, l'onda rosa, le Moscati, spalla forte delle partorienti. Oggi per noi tutti è una giornata particolare perché è la realizzazione di un sogno, quindi da quando mi sono insediato io alcuni anni fa c'è sempre stata questa volontà di riprodurre qui in ospedale quello che poteva essere il concetto della casa parto. Infatti abbiamo realizzato queste sale parto che mettono la donna in condizioni di vivere e l'esperienza del travaglio del parto come se stesse a casa sua. Questo proprio per l'estrema demedicalizzazione e umanizzazione del parto. La Campania ha un record mondiale che è quello dei tagli cesari, che è oltre il 45%. Noi siamo un'oversi felice perché siamo all'8,9% con incidenza di taglio cesario in primi gravidi. Quindi un record non solo per la Campania ma è tra i posti con più bassa incidenza di taglio cesario in tutto il territorio nazionale. Un ambiente così all'avanguardia, come diceva il nostro primario, non soltanto dal punto di vista strutturale perché ci sono tutti i presidi che servono e ovviamente questi presidi sono nascosti rispetto a quello che si vede. Per cui siamo sicuri che qui possiamo migliorare notevolmente la qualità dell'assistenza. Assistenza che tengo a dirci ostetrica deve essere one to one, per cui la donna che arriverà qui da noi si sentirà accolta come a casa, si starà un rapporto empatico con l'ostetrica di riferimento e quindi siamo veramente orgogliosi di poter esplicare la nostra professione in un ambiente così accogliente e così bello. Veramente siamo orgogliosi.